Buongiorno signori e signori, la mia testazione sarà in italiano. Allora, parlerò di quattro cose. Prima di tutto farò un'introduzione molto breve della Sopos, poi parlerò dei problemi basi della sicurezza dei computer, poi parlerò delle minacce che osserviamo tutti i giorni e poi cercherò di guardare il futuro e vedere che cosa il futuro ci porta. Allora, un'introduzione molto breve della Sopos. Siamo uno sviluppatore dei prodotti di sicurezza fondati nel 1985 a Oxford, in Inghilterra. Abbiamo le fidiali in otto altri paesi del mondo, vediamo in più di 150 paesi del mondo e differenziamo dai nostri concorrenti, avendo soltanto una base business dei nostri utilizzatori. Siamo il produttore più grande europeo di antivirus e di antispam. Allora, dopo questa introduzione, vediamo quali sono i problemi basi della sicurezza dei computer oggi. Il primo problema è che il mondo è molto ben connesso e di questo parlerò in qualche slide. Queste connessioni sono veloci, diventano più veloci con i giorni e sono anche permanenti. Abbiamo gli aggeggi, gli aggeggi come questi qui, che sono programmabili e i nostri utenti sono creduloni e credono troppo di quello che gli è presentato. L'ultimamente sono i soldi che sono coinvolti. Adesso cercherò di analizzare questi punti uno per uno. Come ho detto, il mondo è connesso, queste connessioni sono globali e queste connessioni globali vogliono dire anche che i problemi che incontriamo sono globali. Le connessioni sono veloci, le connessioni private di 256 kilobit sono molto comuni, le connessioni mobile di 256 kilobit sono comuni per esempio in Giappone e saranno molto più comuni qui in Europa e in Africa. E queste connessioni permanenti... E queste connessioni permanenti...